Vuoi delle maglie da calcio di questa stagione a poco prezzo? C'è chi calcio? Usa il codice promozionale GS per ottenere il 15% di sconto su ogni acquisto. Link e altre informazioni in descrizione. Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di una cosa. Allora, fra tutti i milanisti che da lunedì rompono le palle nonostante abbiano preso le batoste e anche i napoletani che nonostante abbiano vinto contro il Torino e nonostante noi abbiamo vinto contro il Milan continuano a venire sotto ai miei video per parlare del 5-2 che sono veramente dei clown ci sono i laziali. Ci sono i laziali che la prima cosa che fanno non è festeggiare non è essere contenti dopo la vittoria in uno scontro diretto che ci rilancia per la Champions. No, che cosa fanno loro? Vengono sotto ai miei video per parlare di Correa. Eh ma tu dicevi questo di Correa? Eh ma tu dicevi quello di Correa? Ti sta bene? Correa vi ha zittito tutti? Scusatevi con Correa? Ma ragazzi, ma vi sembra il modo? Voi sapete cosa vuol dire tifare la Lazio? Adesso vi dico che cosa hanno insegnato a me magari a voi hanno dato insegnamenti diversi è possibile tutto a me hanno insegnato che quando si tifa per una squadra che sia la Lazio, che sia il Catania, che sia il Palermo o che sia il Lecce si tifa per la maglia si tifa per la maglia che non viene indossata dal solo Correa che non viene indossata dal solo Lulic oppure dal solo Caicedo viene indossata da 16 giocatori ogni partita più quelli che rimangono in panchina si tifa per la maglia si tifa per i colori si tifa per il simbolo non si tifa per il singolo giocatore questo è quello che hanno insegnato a me quando la mia squadra vince 3-0 contro il Milan la prima cosa che faccio è godere la seconda cosa che faccio è festeggiare la terza è essere felice la quarta cosa al massimo è andare dai milanisti a godere alla faccia loro ma non andare dal Laziale X per iniziare una guerra di idee oramai ripeto questo concetto un'altra volta oramai l'obiettivo di noi laziali sembra non essere più quello di tifare la Lazio ormai il nostro obiettivo è avere ragione è far prevalere le nostre idee personali quando in realtà l'unica idea l'unica idea che dovrebbe realmente contare è tifare la Lazio faccio il senza giacca del club questo è il mio club perché l'argomento è piccante allora che cosa ho detto io due settimane fa abbiamo un problema Correa non ho detto il problema della Lazio è Correa perché molti sotto nei commenti mi hanno scritto qual era il problema della Lazio Correa? ecco non avete capito un cazzo quindi se non capite ciò che viene detto in un video è inutile che commentate la differenza sta nella grammatica della frase e nel significato abbiamo un problema Correa uno fra tanti problema Correa qual è il significato della parola problema? che cos'è un problema? un problema è una difficoltà che richiede un adattamento o un comportamento particolare o di cui si impone il superamento di cui si impone il superamento quindi non parliamo di qualcosa di permanente quando si critica il rendimento di un calciatore questo rendimento può mutare nel tempo può cambiare può peggiorare così come può migliorare ok? io ho criticato di Correa io e tutti i laziali con un po' di sale in succa in grado di analizzare i dati di fatto ho criticato a Correa il suo rendimento rendimento che nell'ultima settimana e mezzo è andato a migliorare è mutato problema che quindi si sta piano piano risolvendo con le prestazioni capito? quindi incredibilmente dalla mia critica il rendimento di Correa è migliorato pazzesco cioè come se noi laziali fino a qualche giorno fa parlavamo di un problema realizzativo parlavamo di un problema realizzativo della Lazio però come mai dopo la partita contro il Milan nessuno è venuto sotto i miei video a dire ma tu parlavi di un problema realizzativo e grazie al cazzo è stato risolto nelle ultime tre partite si è superato si è risolto nelle ultime tre partite grazie anche ai gol di Correa ho detto questo concludo dicendo che io nelle vesti di Giovanni Stramacci preferisco di gran lunga criticare un calciatore forte che uno scarso perché il calciatore scarso è limitato nelle sue potenzialità quindi più di quello che già non ti dà non può darti ok? quindi è inutile criticarlo si critica invece un calciatore forte perché si sa che quello lì può darti di più e deve darti di più capito? cioè è inutile che venite qui sotto a scrivermi eh ma tu che criticavi tanto Correa e non chi ha portato Murici a Roma ma a che cosa serve criticare chi ha portato Murici a Roma? lo ha portato lo ha portato ormai non questa cosa non può cambiare il rendimento di Correa invece può cambiare può migliorare la critica è inutile se non serve a una merita ceppa è utile invece se serve a migliorare capito il discorso? io spero che sia stato capito perché davvero sembra che io stia facendo stia facendo una lezione a dei bambini delle elementari mettete un like se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se per caso non lo avete ancora fatto e noi ci vediamo successivamente ciao ragazzi forza Lazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti